e ciao a tutti ragazzi io sono simone e bentornati sul mio canale oggi andremo a sfogliare insieme il catalogo dei lego che ho preso al toy center per andare a prendere la lamborghini urus cominciamo subito allora c'è la pagina iniziale con tutti i lego ecco questi sono i lego classic tante cose così bene e no e lego creator a me piace questo qui trasportatore di shuttle vabbè space shuttle come volete chiamarli voi insomma lego creator sempre casa galleggiante no non è tantissimo e no avventure in mare con lo yacht che non c'è scritto nemmeno bene e non adesso devo controllare tutte le pagine se no qua ancora ok mamma mia i lego spaziali questa prova di guida rover missione di riparazione satellitare bemmami raggio spaziale e centro di controllo guardate ispirato dalla nasa e va bene questo è il canone dei pompieri questi sono i lego della police vedete mi piacciono sì questo cos'è incredibile super veicolo lego city ma io questo c'è l'ho questo c'è l'ho questo c'è l'ho monster truck bellissimo questo cos'è trasportatore di miette mietti trebbia va bene e alla scoperta delle specie stinte con la spedizione artica di lego city e vabbè guardate il mammut sega rotante qual è questa qui lego treni a no ragazzi io ho avuto un modello simile di questi che l'ho avuto tanto tempo fa nel 2016 praticamente e poi è nato in mille pezzi non so perché questo cos'è il luna park avventure all'aria aperta no questa è la cimbala di omar anche se non lo è va bene lego inside ma non so cosa sia perfetto al try the inside il trenno fantasma dellego movie 2 forse questo film lo conosceranno tanti e forse questa cosa è la stata della libertà rego movie 2 e questo potrebbe interessare batman guardate tutti i personaggi c'è qua c'è batman vedete e se sempre batman con la sua macchina così spiderman eh si spiderman cos'è non andrà bene spiderman sempre ho spostato il coso non so lego avengers si lego super heroes marvel capitano marvel ma le giurassic world sì sì questo mi potrebbe piacere come film anche se non lo è vabbè anche se non l'ho guardato volevo dire lego speed champions porsche mclaren scebolette vabbè mi dico sempre così io un ferrari questo qui è la questa è una vera ferrari si ford ford scuderi a corso non so che macchina dodge ok non ci fate caso perché lego boost build code play e vabbè pure la letterina per natale c'è mamma mia scegli il tuo regalo guarda la casella e scrivono nella letterina mamma cos'è questa cosa forse lo tremeremo eh forse scopere date vabbè scopere date vabbè The Ninjago Movie si si guardate che cos'è sta cosa si si sempre Ninjago Ninjago eh eh e quando è che finisce Overwatch non lo so se c'è un film di questi eh no Harry Potter eh vabbè questo cos'è la torre dell'orologio di Hogwarts è di Potter si ah no ragazzi io questo qui ce l'ho avuto bellissimo eh vabbè il rego di Minecraft siiii questo ce l'ho questo questo e questo e questo e questo questo no questo 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 e basta cioè perchè non ho messo gli arti vabbè eh questo mi sa che lo vorrei tantissimo vabbè no questo non è che tanto mi interessa Star Wars eh vabbè il Manny New Falcon questo è l'unica cosa che conosco di Star Wars sii sempre Star Wars eh 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 oh miotti ragazzi guardate che bestia ma veramente vi rendete conto di cos'è l'escavatore no vabbè non voglio parlare eh eh veramente stiamo a dire ma pure la Bugatti c'è eh eh l'Ego Technic e se vede un po' me la faccio portare per Natale grande che cos'è Porsche eh bizarca questa cosa qua ma pure la Bugatti la servolette pure l'Ego Technic eh cos'è sta cosa mh va bene camion l'Ego Technic sempre barca bellissima un'unità di primo soccorso e Autotarelli perfetto sì no Mindstorm eh vabbè le qualche architetto perfetto Francia San Francisco grande murello cinese eh no New York City New York City sì vabbè è impossibile campervan che almeno potevi scrivere carvan no io non so cosa dire eh vabbè pure l'expert come si chiama questa macchina il primo raggio spaziale sulla luna perfetto nasa bollo nasa bollo treno di natale ovviamente questo qua lo conosco eh london bus da 16 anni no vabbè perché eh vabbè cos'è eh ah no questo è il lego dove vabbè però i lego li aspettate dove erano sono qua sono qua se soltanto la pagina arrivasse eh no vabbè però i lego di minecraft eh non è che sono bellissimi sono bellissimi eh ragazzi spero tanto che questo catalogo mi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da me e questo catalogo dei lego ciao